Buonasera e benvenuti in questo nuovo gameplay su Coromon, io sono Glacial Sphere ed oggi siamo qui nelle rovine di Xcune, o meglio, mi sembra si chiamino rovine di Xcune, faccio vedere il mondo che ormai è completo praticamente, sì, Xcune, e abbiamo praticamente esplorato tutto, siamo alla fine ormai, perché la mappa da qui non può andare oltre, abbiamo percorso tutta la regione di Velua, partendo dal sud e arrivando a nord, ed ora siamo nelle rovine di Xcune, che come ci hanno ricordato gli NPC, sono piene di Coromon potenti indipendentemente dal tipo, di tutti i tipi, e infatti vi faccio vedere che ho allenato la squadra, nel frattempo vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, nel frattempo ecco qui la squadra, ho sostituito il nostro Dugterra, con Kyraptor, che ha un attacco fuori dal mondo, ha letteralmente un attacco che non ha senso, guardate, 250 di attacco fisico, io vi ricordo che il nostro Wukaklow che era quello che aveva l'attacco più forte di tutti, nel 241 ora, ed è un livello in più Wukaklow potente 17, l'ho potenziato, o meglio, l'avevo preso già potente, e l'ho potenziato ulteriormente mi sa che mi è salito solo di un livello di potenza, di potenziale peccato comunque, ora abbiamo il nostro tipo terra, che purtroppo non potrà essere usato contro il titano di tipo acqua, per ovvie ragioni, contro il titano di tipo acqua utilizzeremo il nostro Rhino Buds, Ecliptor, Berhalis ovviamente, Volkadon potremmo utilizzarlo, e in caso Wukaklow per magari resistere e stallare un po'. Bene, andiamo avanti, ho dovuto allenare un po' i miei Coromon, perché qui davvero ogni singolo Coromon selvatico aveva la possibilità di shottare tutta la mia squadra, quindi ho dovuto per forza allenare un po' i miei Coromon la sopra non possiamo andare, quindi dobbiamo andare da questa parte direi quasi quasi di mettere davanti Ecliptor, in modo da trovarci meno Coromon selvatici allora, e diamo un'occhiata un po' a questa zona, perché avevamo iniziato ad esplorarla in passato, qui avevamo già preso infatti i nostri bauli dentro alcuni strumenti però bisogna scendere qui ora andiamo da questa parte, vediamo se qui ci sono degli strumenti invisibili, nada però qui abbiamo uno strumento invece da prendere eccoci qui, vabbè torta a difesa speciale, niente di interessante niente strumenti invisibili, proseguiamo quindi andiamo verso il basso oh oh, Coromon Unambi, questo è fortissimo tra l'altro sapete che lui è fortissimo e l'abbiamo anche catturato, ha catturato un botto di Coromon in questo periodo allora, potrebbe avere una difesa speciale molto alta lui, testiamolo con un potere lunare vediamo quanto da noi li facciamo infatti, ah non è molto efficace giustamente e l'ucciso Morfeo che però non ha colpito a questo punto potremmo usare un bel voodoo che non dovrebbe essere, che dovrebbe essere normalmente efficace infatti un altro Morfeo, questa volta ci colpisce mannaggia lui e ci addormenta ah, ci sono svegliati subito beh, questo ragazzi è fortuna questa è fortuna estrema vediamo quanto da noi li facciamo con voodoo niente male ed ora un altro potere lunare dovrebbe assicurarci la vittoria no, trascendente, questo ci farà male ok, fortunatamente non è molto efficace e abbiamo resistito bene addio, cambi ecco fatto, un po' di punti esperienza per il nostro ecliptor come vi dicevo ho dovuto allenare un po' i miei Coromon perché altrimenti non sarebbero riusciti a non saremmo riusciti ad andare avanti sarebbe stata una palla incredibile cioè ogni 3x2 doversi curare dover tornare indietro qui sotto non si può andare andiamo qua su poi da qui qui non si può ah no, giustamente da qui si va da questa parte ok e abbiamo un altro Coromon qui si incontrano anche i Coromon di tipo Magia Oscura e li ho anche catturati allora lui ha una difesa speciale molto una difesa fisica molto alta ma speciale non così tanto testiamolo con un potere lunare infatti lo quasi shottiamo furia oscura questo fa male vedete i Coromon di tipo Magia Oscura sono potentissimi e io li ho catturati però ho catturato tutti i Coromon di tipo Magia Oscura che si trovano in questo posto ovvero in realtà tutti tranne i Lumon Lumon era il primo Coromon di tipo Magia Oscura che abbiamo affrontato se ben ricordate ok allora diamo un po' di cure al nostro Ecliptor che vi ricordo messo davanti perché è un repellente naturale in teoria tiene lontani un po' di Coromon deboli ok scendiamo qui ho anche catturato Taddle o meglio no Nibble Gara lo starter l'ho preso alla fine l'ho preso anche la sua terza evoluzione però non ho scelto di non mettere in squadra lui invece mi manca non l'avevo mai incontrato ok vediamo di shottarlo non mi interessa catturarlo attualmente se dovesse resistere lo catturerò però dovremmo quasi shottarlo con questo che è shottato perfetto questi sono tanti punti esperienza eh quasi 5000 punti esperienza per Ecliptor che vanno più che bene ho passato davvero un'eternità di tempo ad allenare i miei Coromon qui strumento e senza potente ottimo ora scendiamo di nuovo sull'acqua dobbiamo fare questo avanti e indietro sull'acqua qui non possiamo scendere dobbiamo per forza andare da questa parte e andiamo di qua vi ricordo che non possiamo incontrare cromos selvatici nell'acqua a meno che non ci mettiamo a pescare niente su uno strumento invisibile ok qui ora possiamo fare così ma non possiamo entrare questo è il nostro teletrasporto e possiamo andare di sopra sì l'unica zona in cui possiamo andare è quassù strumenti non visibili niente proseguiamo allora oh oh attenzione tu ah c'è lì il Wubboniano cosa hai fatto dov'è Chalkyu non lo vedi? il tuo equilibrio è nostro ora Chalkyu non c'è più l'ha voluto lei ha provato a fermare Ran e ha fallito ma non preoccuparti Glacial con il nostro benevolo titano che piega questo pianeta il nuovo mondo sarà un paradiso oltre ogni immaginazione che senso? come stai a ridere tra l'altro? dobbiamo andare avanti dobbiamo proseguire dobbiamo andare a prenderlo quel tipo adesso però attenzione a guardare magari più sotto non possiamo andare ehm non possiamo fare nulla lui no? perché vuole lì sull'oggetto volante però qui c'è un suo amico lo affrontiamo? eh ne è valsa la pena i miei fratelli e sorelle su Wubbonia dopo aver lottato per così tanto tempo presto finalmente potranno ricominciare da capo è tutto per merito nostro la nostra eredità vivrà nei loro cuori per sempre ok torta attacco speciale torta difesa speciale queste torte non mi interessano sinceramente eh niente punto come non detto nessuno strumento invisibile qui ecco il capo dei Wubboniani a lui già mi assale la nostalgia i nostri splendidi panorami magia oscura fatti di montagne magia oscura laghi magia oscura e foreste magia oscura il grande cataclisma ha spazzato via tutto tutto ciò che amavamo sono felice di aver dovuto passare le pene dell'inferno per recuperare l'essenza magia oscura Wubbonia continuerà a vivere per sempre lunga vita a Wubbonia va bene? nessuno strumento anche qui nada e si entra a questo punto bello questo templio eh molto bello tempio del sole l'ho chiamato templio vabbè ci avviciniamo sempre di più all'equilibrio ecco lì i nostri titani le nostre essenze titaniche protettore calchio è qui deve essere da qui deve essere qui da questa parte spaventoso riesco a sentire che sta lottando sta cercando di salvare il nostro equilibrio calchio calchio ti prego rispondici purtroppo per voi ruderi del passato calchio non è più qui oh no l'ultimo titano sarà di tipo magia oscura cacchio ma mi fa piacere che vogliate unirvi a lei così presto questo ci farà risparmiare un sacco di tempo non ci arrenderemo mai questo pianeta è destinato a piegarsi ai nostri elementi non ai tuoi insieme al protettore siamo venuti a riprenderci ciò che è nostro ci riprendiamo tutto quello che è nostro scusatemi per questa pessima imitazione protettore? solo uno? intendete questo piccolo essere? somiglia molto alla mia gente ma più brutto perché abbiamo il cappello blu? ma dimmi protettore dimmi cosa ne pensi di magia oscura imita, conduce, teletrasporta e molto altro ancora non è stupefacente? nuova vubonia non ha bisogno dei vostri elementi inferiori tutto ciò che ho visto di magia oscura è orribile sta corrompendo i nostri coromon distruggendo l'ambiente perché sei venuto qui? cosa mi dici del tuo equilibrio? il mio equilibrio coro ci ha creati per piegare i nostri elementi creare mondi pieni di prosperità è andato tutto bene per un po' di tempo tuttavia coro ha lasciato che il mio pianeta venisse distrutto da una catastrofe naturale il grande cataclisma quindi la mia gente ha dovuto cercare un nuovo mondo da farmi piegare il vostro mondo come titani comprendiamo la vostra voglia di sopravvivere ma non può essere questa la volontà di coro sareste potuti presentarvi da noi con una posizione più neutrale la società di questo pianeta ha già trovato soluzioni molto innovative in passato volete dire che i miei buboniani usano metodi che non sono all'altezza di quelli umani? impossibile vedrete quanto sono sbagliati i vostri proprio come ha fatto Kalkyu si combatte? cos'è? cos'è questa forza che mi attrae? appunto questa è la forma fisica di Kalkyu sta iniziando a... questo potere sta facendo tutto il possibile per riprendere il controllo e rivelare la sua essenza non fa differenza forma fisica o no alla massima potenza non avete nessuna possibilità protettore ti cederemo il nostro potere insieme possiamo farcela è la nostra unica possibilità dobbiamo combattere l'oscurità che vincola Kalkyu eccolo questo potrebbe essere il combattimento finale Kalkyu chissà se il fatto che ora ci cedano la loro potenza avrà qualche effetto nel gameplay magia oscura e diversa da ogni altro elemento arrendetevi alla sua bellezza ok protettore questo richiederà l'uso congiunto di tutte le nostre forze la paralizza ah ma com'è questa essenza da sola è più forte di tutte le nostre messe insieme si finalmente puoi vedere il potenziale della magia oscura quindi non fanno un cavolo ok allora iniziamo con premonizione lacerazione oscura farà male mi diminuisce la difesa fisica ok posso usare un'altra premonizione eh ok due premonizioni le abbiamo messo eh zampillo quindi usa comunque attacchi di tipo acqua lui o meglio lei Kalkyu è una femmina ok facciamo un'altra premonizione prima di morire vedete comunque li togliamo un bel po' eh lacerazione oscura va bene ecliptor è esausto ora dobbiamo iniziare a stollare un po' ecco che arriva un'altra premonizione iniziamo a fare eh gli metterei la scottatura quasi quasi vai Volkadon proviamo a mettergli la scottatura Volkadon è abbastanza veloce infatti colpisce per primo vediamo se è immune magari eh no che è stato scottato perfetto aggiramento cosa fa? attacco fisico di Volkadon è diminuito notevolmente e anche l'attacco speciale mi ha reso praticamente inutile però arriva l'altra premonizione buono pure essence cosa fa? difesa fisica di Volkadon aumentatele molto oh buono magia oscura può passare attraverso qualsiasi cosa vedremo io nel frattempo ti faccio un taglio profondo per metterti sanguinamento anche quindi abbiamo un doppio dotto ora sanguinamento e scottatura ok e l'attacco fisico ci viene tirato su zampiro ci ucciderà probabilmente eh invece no scottatura e? no sanguinamento non prende danni infame andiamo di tempesta di fuoco e poi lasciamo che Volkadon muoia in pace interruzione sicura? no ok attacco fisico è diminuito l'importante è che prenda l'anni dalla scottatura e anche dal sanguinamento ottimo facciamoli un altro taglio profondo così il sanguinamento continuerà a proccare ok interruzione va bene uccidemelo pure non è un problema ok 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 ora tocca a Beralis per stallare un po' lui deve resistere lui è quello che deve resistere e continuare ad applicargli il dot del sanguinamento distorsione cosa fa? ci diminuisce difesa fisica diminuita di molto cacchio e difesa speciale diminuita naturalmente lui però continua a suggerire danni dalla scottatura e sanguina dalla ferita ottimo la forza è la mia specialità ecco qui un ossaggio vai Usai cosa mi boosti? attacco fisico buono e attacco speciale ottimo patetico hai davvero bisogno di fare affidamento sugli altri per raggiungere il tuo pieno potenziale cosa fa lui? si è curato? merda si è curato dalla usiamo la valanga facciamo un po' di danno eh si è curato dalla scottatura e lui ci usa un'altra interruzione con la difesa droppata di così tanto è normale che succeda questa cosa la situazione oscura non ha colpito si gode altra valanga che gli fa un bel po' di danno e una ferita sanguinante si è aperta di nuovo un combattimento intenso un momento di riposo usalo bene protettore cosa fa? è stato abbattuto per due round vai attacca senza sosta preferirei beh è stato abbattuto per due round potremmo effettivamente sfruttare sfruttare questi turni per fare il free danno praticamente danno gratuito e in più sangue no? ottimo vai un altro danno in questo modo buono e proviamo a fargli un altro infine vai vediamo se fa qualcosa ora che è arrivato a vita rossa infatti la tua squadra ah no questo è illugi nel nostro la tua squadra non cadrà mai col padrone della vita e della morte dalla tua parte ci cura ma magia oscura sarà sempre dalla mia parte allora ora dobbiamo riposarci noi a questo punto sacrifichiamo il nostro Berhalis per risuscitare anzi risuscitare nessuno guarda riposiamoci va bene lacerazione oscura va bene uccidimi pure uccidimi pure perché ora abbiamo Kyraptor oppure Rhinobats mandiamo Rhinobats e usiamo folata tempestiva lacerazione oscura colpisce per primo però abbiamo molti ps infatti rimaniamo belli tosti purtroppo la difesa fisica diminuisce e ha fallito porco cane ha fallito folata tempestiva che pollo Rhinobats dai ma che sfiga mandiamo Kyraptor allora che si mangia frutto va bene e usiamo macelle oh deve riposare anche lui giustamente guardate quanti pie ha macelle è fortissimo Kyraptor ha un attacco che è altissimo purtroppo non fa molto danno purtroppo però andiamo di nuovo di macelle Kyraptor si sta caricando attenzione dai colpo critico buono una ferita sanguinante si è aperta su Kyraptor vediamo se riusciamo a eliminarlo con il nuovo arrivato Kyraptor onda gigante aia eh ciao super efficace questa pure Kyraptor muore anche perché se non sbaglio è speciale questo attacco e Kyraptor di difesa speciale non ha niente tocca a te ultimo Coromon in squadra vediamo se riusciamo a batterlo e useremo colpo di testa pronti non ha fallito attenzione ed è andato giù senza usare alcun oggetto curativo eh buono volk non ha svegliato parte del suo potenziale come vedete non posso più potenziare l'attacco speciale è arrivato al massimo infatti ora sto tirando su praticamente velocità Kyraptor al 68 uh battuto penso il boss finale no 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 questa energia che svanisce capisco ho perso liberati del mio elemento sbarazzati di magia oscura ed è la mia gente tutto ciò su cui abbiamo lavorato perduto tra le stelle per sempre protettore l'hai spuntata ma Kalkiu dov'è nostra sorella eccola fratelli protettore Kalkiu che rischio venire qui da sola ma era tutto parte di un piano giusto? si qualsiasi cosa per dare abbastanza tempo al protettore non c'erano altre opzioni razionali la minaccia è stata finalmente neutralizzata sei stata grande sorella ma questa opportunità non deve andare persa andiamo non vedo l'ora di 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 ridiventare il mio se etereo ok cazzi immagino si grazie al protettore no glacial gli elementi gli elementi di questo pianeta continueranno a evolversi per millenni coromone umani continueranno a divertirsi in armonia nella luce di coro siamo fortunate ad avere una tale opportunità da oggi in poi dobbiamo fare tutti del nostro meglio per un futuro migliore ah finisce così finisce proprio così ok finale un po' forse antichinematico vediamo vediamo se poi dopo i titoli di coda magari c'è qualcosa eh ok si sono creati gli avatar a propria immagine e somiglianza immagino di sì perché il dire di questo coromon come sapete durante i titoli di coda poi mi piace parlare un po' a caldo di del videogioco che abbiamo appena finito allora coromon per me è un bel gioco non è un capolavoro è sicuramente per quelli che ho provato attualmente per i giochi che ho provato il clone di pokemon migliore attualmente sulla piazza è molto interessante non so perché ci sia questo suono creepy ok va bene è molto molto interessante i coromon hanno dei design accattivanti i le zone sono ben caratterizzate sono ben diversificate abbiamo come al solito una cosa abbastanza classica la zona paludosa quella desertica quella ghiacciata la zona di base che diciamo quella in cui si inizia che alla fine è una città normale con un boschetto però non è niente male abbiamo anche il vulcano abbiamo queste boss fight che sono forse una delle parti più interessanti di coromon e dei picchi di difficoltà abbastanza interessanti soprattutto i primi perché con i primi non hai ancora modo di sapere cosa ti aspetta quindi vai lì un po' diciamo senza particolari aspettative e invece il primo boss già ti corca di mazzate il secondo pure dal terzo in poi se vi ricordate insomma da quello di sabbia se non ricordo male in poi sono state abbastanza facili le battaglie l'ultimo boss devo dire che è stata una sorpresa combattere con quello del tipo magia oscura rispetto a quello che ci saremmo immaginati ovvero il tipo acqua ho fatto bene ad allenare allora tutti i coromon indipendentemente da quelli che avrei usato contro la boss fight finale e devo dire che li ho allenati senza saperlo alla perfezione dal punto di vista del livello perché siamo riusciti a batterlo usando anche la strategia usando i problemi di stato le ferite sanguinanti tutti i nostri coromon e siamo arrivati alla fine con il nostro ultimo coromon che ha potuto sferrare l'attacco finale allora la trama è abbastanza semplice ma sicuramente spanno in sopra quella di pokemon perché se non andiamo a contare la lore in cui pokemon comunque può andare a scavare nella lore la trama di pokemon è una delle cose più banali e col tempo diventate stupide della di quello che tu possa trovare nei videogioco in generale è davvero molto molto stupida la trama di pokemon all'inizio era semplicemente semplice e banale poi dato che è stata reiterata praticamente sempre uguale per più di vent'anni è iniziato ad essere anche stupida qui abbiamo una trama diversa una boccata all'aria fresca un po' più un po' diversa per l'appunto ok grazie per aver partecipato ci dimostrano come se fosse una sorta di sala d'onore i nostri coromon e possiamo tornare nella home ecco il finale non mi è piaciuto più di tanto devo dire la verità mi sarei aspettato un qualcosa successivo alla battaglia con i boss al battaglia con il boss finale ma forse potremmo averlo adesso vediamo eh vediamo dove mi fa ricominciare se dal punto di salvataggio precedente eh infatti aspettiamo aspettiamo a dirlo toc toc e infatti e infatti mi sarei aspettato una scena di chiusura migliore glacial ciao ho sentito che ti sei riposato un po' in questi ultimi due giorni che sono passati quindi due giorni per favore prenditi tutto il tempo che ti serve per recuperare te lo meriti a proposito tutti i tuoi amici della luxolis hanno contribuito a mettere insieme un pacchetto di assistenza speciale per te non c'è abbastanza oro al mondo per ringraziarti ma beh ci abbiamo provato ok tre essenze potenti due spinner platinati che sono le masterball eh gli spinner platinati sono le masterball tutti sperano di rivederti presto al lavoro sono in corso delle vere scoperte fantastiche cose che vanno oltre i tuoi sogni più sfrenati alcuni di noi teorizzano che ci vorranno almeno un paio d'anni ma alla fine che ne dici di un'altra avventura insieme? questo penso che sia il teaser di Coromon 2 di un nuovo gioco che uscirà magari tra un paio d'anni 2023 2024 perché questo comunque sono sbagliato nel 2021 una avventura spaziale oh interessante siamo ancora vestiti con il cosorale delfino e l'asciugamano ok andiamo un po' a vedere cosa c'è appunto cosa cosa c'è rimasto da fare Glacial ora che hai salvato il mondo puoi finalmente pulire la tua stanza ma come? sto solo scherzando tesoro prenditi una pausa gioca ai videogiochi con Dexter te lo sei meritato salve Dexter hai salvato il pianeta? si e allora? non puoi ancora battere il mio punteggio più alto svurmi rush sei bravo solo nelle cose di poco conto va bene Dexter ci sono delle torte qui magari ci sono delle torte in forno si ok delle cagate di torte usciamo magari cambiamoci anche il vestito va che andare in giro così mi sembra un po' stupido mettiamoci il guante ce lo teniamo cappello il cappello vichingo boh va bene e il camice da lab oppure il giro blu mettiamoci il giro blu torniamo un attimo seri ma col cappello da vichingo abbiamo battuto il mondo abbiamo salvato il mondo e battuto il boss finale salve che tu dici le solite cose va bene vediamo un po' cosa c'è magari di diverso se andiamo al laboratorio o da rigal vediamo un po' qui non sembra esserci nulla di diverso questi c'erano già oh no non c'erano loro e ma aspetta ma io mi dovevo curare ma aspetta un secondo ma mi dovevo curare io infame per fortuna non mi ha usato un attacco speciale perchè altrimenti sarei morto instant ah pure una ferita sanguinante sì ma io cioè vorrei dirti pensavo fossero degli allenatori questi buono che il suo ecliptor è già andato a farsi fottere tra l'altro ecliptor perfetto quello eh buono rhino buds eh appunto oggetti dai facciamoci risorgiamo qualche qualche cormon va intorte stanno pietra di fenice vai contro rhino buds manderemo il nostro dov'è kairaptor vai taser va bene risuscitiamoci anche un altro va non so chi possa avere però squadra eh lui ha rhino buds ecliptor potrebbe avere volkadon potrebbe avere un clue kairaptor o beralis eh direi di risuscitare beralis ehm oggetti andiamo a prendere le nostre pietre vai beralis colpo di fulmine addio wukaklow è stato bello averti squadra ok ok però avrei gradito che mi avvesiassero che fossero degli allenatori queste ok macelle e addio a taser comunque riesce a paralizzarmi per primo si kairaptor ha una velocità bassissima eppure paralizzato non può muoversi va bene vai macelle colpo di fulmine non dovrebbe farci nulla infatti ok allora vai macelle buono addio addio rhinobuds ha un attacco talmente alto che non può ovviamente resistere rhinobuds ok ha risvegliato parte del suo potenziale attacco fisico difesa fisica e via scheratops aha è la terza evoluzione di di skarbon ed è tipo terra lui giusto? perfetto tra l'altro cacchio questo è tosta ehm usiamo macelle di nuovo illuminazione mi sa pure se da appare buonanotte vediamo un po' di questo post game eh macelle eh non è molto efficace purtroppo usiamo l'acenazione un'altra illuminazione davvero vuoi proprio shottarmi tutta la squadra ecco l'acenazione già ti fa male eppure ferita sanguinante buono altra illuminazione va bene questo mi sembra un po' troppo però eh scheratops sembra leggermente troppo vai buono bene perde pure per il sanguinamento morso acido ci shotta? con p3 di attacco non ci shotta la difesa diminuita anniettatore che stronzo beh muori per il sanguinamento va? eh qua devo riposare però devo riposare per i piedi per forza morso acido di nuovo ok addio kairaptor hai fatto quello che devi fare e tocca a te veralis vai con una semplice valanga dovrebbe bastare e addio scheratops buono così e kairaptor al 69 o no? e sconfitto marcel forte ok marcel ben fatto perchè non provi di nuovo il mio koromon è salito di livello dopo la lotta ah ok questi sono fatti per farti allenare allo sfinimento i koromon i tuoi per avere sempre dei koromon di livello alto da battere capisco ok diamo un'occhiata sopra poi per vedere se ci sia magari un nuovo addestramento da fare vediamo eh lavoriamo giorno e notte no ok questa solita roba niente perfetto ok andiamo a battere anche l'altro per vedere che koromon ho tra l'altro vi faccio anche vedere velocemente il mio database che è quasi completo del tutto guardatelo qui sarebbe il pokérex ecco qui questi non sono completi perchè? perchè sono quelli potenti cioè noi abbiamo il la versione potente quindi nello standard non viene contata ehm poi toruga l'ho cercato per un sacco di tempo ehm avlamma non l'ho trovato ehm non so per quale motivo non l'abbia trovato mentre volkadon se vi ricordate l'avevo trovato nella nella miniera fortunatamente si è rivelato uno dei corromo più forti della mia squadra come vedete ho catturato anche nibblegar e megalobite ho catturato hambi guildwing mi manca ma perchè ho il guildwing quello potente poi qui ho davvero catturato serpike ho catturato un botto di roba mi manca corradion thoravolt ashclops che è la l'evoluzione di moltai bella molto bella eh fiddly wukaklow che è quella potente e si ho catturato un botto di roba ragazzi questi ho quelli potenti lunar pup e kryptor ho quelli potenti ho catturato una craybeast ma non un craypeak pyrochic non abbiamo visto ancora l'evoluzione di pyrochic hmm sembra tra l'altro un pulcino quindi potrebbe evolversi magari una sorta di gallo chi lo sa acd si ok questo non è una terza evoluzione kyreptir che si evolve in kyraptor gella gellish e geloquad catturati tutti scarbon scudra ed ora abbiamo scoperto anche skeletops la terza evoluzione di scudra che potrebbe essere davvero forte tra l'altro droopy mudma arctarcturus seraphace con green mask e potrebbe avere addirittura una terza evoluzione oppure è probabile che questo sia il primo stadio di magmilus lumos che non abbiamo ancora scoperto o meglio lumon lampire e lumasect patterbit con le sue evoluzioni inutili milidont questo cormon ha una difesa fisica oltre ogni limite c'è fortissimo fisicamente chonctod catturato tinshell dampod sandrile mi manca blitzian catturato manca la terza evoluzione di purgast eccolo qui go slime magmire e non so se ci sia una terza evoluzione per magmire swampa oppure un primo stadio per swampa magari squidry octutol o meglio octotol ruptus bulbrut mubi mulbosh ah ok e sono tre evoluzioni mubi pensavo fosse uno stadio unico questo mubi mubi molbosh e malavit flowish tra l'altro potrebbe avere anche un attacco bello forte questo ora vedere le sue statistiche infatti attacco fisico e difesa speciale molto alti niente male questo eh se vi serve un coromo che abbia difesa speciale questo non è niente male flowish che si evolve in daricara avevamo intuito bene la sua evoluzione bellissima questa cosa bellissima mino blazitur purtroppo il fatto che si evolve solo una volta non mi fa piacere molto questo mino questa linea evolutiva l'avrei preferito anche per questo tre stati questa invece è bellissima frova froshel e glamot bellissima otogi con orochi shimshell con atlanter wukaklou e questi sono appunto i coromon di tipo magia oscura vedete qui qui il tipo questo è acqua questi sono magia oscura come vedete ho catturato wukaklou che si trova nella nelle rovine di e xqn lumon è l'unico che mi manca con la sua seconda stati da scoprire ho catturato centilla millidont arcta arcturos e sono stati davvero difficili da catturare perchè a loro come rarità hanno vediamo se posso farvelo vedere come rarità no non te lo fanno vedere hanno leggendario cioè più rari degli starter sono questi che poi non è vero perchè non ho trovato in casino in quella grotta ne ho trovati davvero tantissimi ma sono tecnicamente più rari degli starter ok ora con la squadra effettivamente full al completo andiamo a dare un'occhiata a quest'altra lotta all'altro allenatore fammi vedere che sai fare va bene gioca vediamo chi hai tu volkadon ok ah volkadon perfetta così eh volkadon però non dovrebbe avere molta ripesa speciale quindi prenditi un bel potere lunare addosso vediamo quanto ranno ti faccio niente male la pillo ok biscotti non biscotti nemmeno che pippa che sei volkadon ok 7000 punti esperienza niente male potenziamo il nostro attacco speciale e la velocità megalobite oh perfetto se è così eh allora usiamo una potere lunare però lui dovrebbe avere molta ripesa speciale in realtà quindi non dovremmo farne molto danno beh niente male contando che quello è il 40% è ridotto dal 40% come danno non è niente male facciamo così usiamo una premonizione e poi lasciamo che il nostro ecliptor muoia vai bolle di sapone ok uccidimelo pure e manderò per alis intanto adesso ti arriva una una valanga addosso e una premonizione quindi muori muori sicuramente va bene bolle di sapone non c'è fra nulla fatte però ci diminuisce la velocità va bene non è un problema valanga se non ti shotta questo ti shotta premonizione ok chissà dove va a finire premonizione va a finire magari su il prossimo coromon ecliptor a 70 ottimo oh berhalis contro berhalis va bene userò valanga tra l'altro ci sono due attacchi che si chiamano allo stesso modo valanga valanga ma sono due cose diverse una speciale e l'altra fisica questa che ho usato io a fisica e si vede ed ho pure fatto sanguinare buono io invece continuo a usarmi quella speciale forse perché sa che il mio coromon ha meno difesa speciale che difesa fisica ok sanguina bravo sanguini gronderai scrivetemi nei commenti qual è la citazione di quale capolavoro incredibile è questa citazione questa citazione dai sanguina taglio profondo vendetta va bene non ha colpito taglio profondo davvero che sfiga vabbè tanto abbiamo comunque stravinto la lotta vabbè ha ancora morso gelato lui va bene muore per il sanguinamento non muore per il sanguinamento a chi facciamo prendere punto esperienza direi che raptor dai vai prenditi i punti esperienza con le punte fantasma questo non dovrebbe farci troppo danno in realtà anche se i caraptor non hanno una buona difesa speciale anzi ha praticamente zero di difesa speciale ok quindi abbiamo anche capito come aumentare di livello il nostro coromon i nostri coromon fino allo sfinimento praticamente sappiamo che coromon hanno loro basta memorizzarselo in un attimo sono solo tre ok molto bene prega non provi di nuovo il mio coromon è salito di livello dopo la lotta facciamo un'altra volta voi non mi spedate vero? ok no siete eravate più anche prima voi si ok andiamo a questo punto a darci una curata veloce coromon e poi andiamo al laboratorio ricerca e sviluppo l'idro deve esserci rigel vediamo se ci dare dialoghi extra o magari una nuova missione una missione extra per il post game non lo so vediamo eh andiamo a dare un'occhiata non ci sono strumenti invisibili qui ok ogni tanto lo userò perchè in queste zone appunto non ce l'avevo questo guanto qui non sembra di esserci nulla di nuovo Gideon ci dirà qualcosa? no niente cioè Gideon all'inizio era stato presentato come un personaggio incredibile in realtà cioè non fa niente allora andiamo all'occhiata qui niente anche qui possiamo prendere questo strumento? no nada abbiamo uno del saluto tizio con patterbeat anche qui anche qui ma Rigel sembra non esserci dove sarà Rigel? non sembra... non sembra essere da nessuna parte peccato speravo di... pensavo di trovarlo qui non è che se posso entrare qui magari? accesso garantito ah ok magari qui dentro lui e infatti mi ricordava c'era un'altra zona che scoperte citanti sono ottimista sul fatto che alla fine troveremo un modo per raggiungere Bubonia sapevo che sarebbero andate a Bubonia per il sequel ma queste cose hanno bisogno di tempo nel frattempo perché non provi a sfondare su coronet che sarebbe multiplayer online con tutta la tua esperienza anche la livello titano dovrebbe essere a portata di mano ok ce l'hanno suggerimento praticamente di andare a giocare online hanno catturato i Buboniani li hanno messi qui spero che non siano... spero che non si sentino tristi ma chi se ne prega non guardarmi con quello sguardo questi baccelli li terranno sicuro presto le rovine di X-Queen saranno il luogo perfetto per l'integrazione della loro società con la nostra ok ho analizzato i ricordi che siamo riusciti ad estrarre loro riesci a immaginare un pianeta con un solo elemento? eppure sono stati in grado di creare una società avanzata credo che tutto ciò che desiderassero davvero fosse trovare un nuovo futuro per la loro specie va bene classica storia in cui alla fine i buoni e i cattivi sono diventati buoni Rigel mi ha ufficialmente nominato come principale esperto di magia oscura di Velua finalmente più lavoro sul campo sto già programmando la mia prossima spedizione a X-Queen ok quindi abbiamo anche scoperto perlomeno che fine hanno fatto i Buboniani perché quel finale di per sé non aveva alcun senso per come era stato fatto eh cioè non ti diceva niente cioè ti dicevo hai sconfitto il boss bravo e quindi è finito così ok quasi quasi tornerei anche alle rovine di X-Queen quindi torniamo al al teletrasporto perché vorrei sapere dove porta quella scala che andava in giù una volta abbattuto il boss voglio vedere se è una zona esplorabile voglio vedere se lì posso trovare qualcosa ok e dopo quello penso che finirò l'episodio perché a parte che ha durato tanto comunque direi che possa essere una linea conclusione andare a vedere lì cosa c'è quindi mettiamoci davanti Kriptor in teoria ora è Coromon Magia Oscura non dovrebbe esserci più no? vediamo chi troviamo ok no o meglio Atlantern però non ci interessa più combattere in questo momento fuga e mettiamoci anche repellente a questo punto il vero e proprio repellente oggetti dovrebbero essere in qui utilizzabili vai e senza repellente e addio andiamo super veloci alla fine dovremmo ricordarci più o meno qual è la strada dobbiamo andare qui sotto eccoci qui tac e voglio vedere se si può appunto andare sotto in quella scaletta che si era aperta oppure se da lì in realtà semplicemente erano andati sotto per fare la cutscene quella in cui tutte le essenze si riunivano vediamo eh tanto si fa super veloci qui una volta che si conosce la strada si è estremamente veloci siamo già arrivati praticamente eccoci qui tac qui c'era il buboniano sulla sulla pietra volante che continuano comunque ad esserci queste pietre quindi adesso posso entrare si posso entrare e posso scendere no non posso scendere peccato non si può scendere peccato altrimenti non visibile qui no niente ok ok beh siamo arrivati qui ragazzi direi di finire qui l'episodio e forse anche la serie potrebbe arrivare magari un episodio extra molto più avanti perché nei ritagli di tempo potrei mettermi magari a completare qualche quest secondaria a provare a completare il database e potrei registrarli e raccoglierli tutti in un unico video extra finale in cui vi faccio vedere magari cosa si ottiene completando alcune quest secondarie alcune missioni secondarie o cosa si ottiene completando il database in caso si ottenga qualcosa detto ciò quindi io vi ringrazio per aver seguito questa serie e questo episodio vi ricordo di lasciare un bel mi piace se avete gradito il video e la serie di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di coromon ora che abbiamo visto tutto potete esprimervi tranquillamente anche senza spoiler e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti perché arriveranno ovviamente altre serie su nuovi videogiochi che vi invito a seguire perché il modo comunque con cui le porto è sempre lo stesso mi piace giocarle immergermi nel videogioco non trattare tutto come se fosse una pagliacciata ma provare a immergermi il più possibile nel videogioco e capire cosa vuole trasmettere cosa vuole dire ogni videogioco da Gratia Sphere e da Coromon è tutto alla prossima alla prossima grazie a tutti